Chi ama andare nei boschi per cercare funghi, deve imparare a riconoscere bene le specie velenose mortali e le specie commessibili. Spesso si assomigliano moltissimo ed è facile confondersi, quindi attenzione, se avete trovato dei funghi ma avete dubbi o siete indecisi se mangiarli o meno, meglio non mangiarli e chiedere a persone esperte o a enti sanitari competenti. Informazioni sbagliate o atteggiamenti superficiali riguardo ai funghi possono provocare gravi danni alla salute, intossicazione o anche la morte. Una regola base è quella di limitare il consumo dei funghi e soprattutto di sottoporli a opportuna cottura. Qui di seguito vediamo una lista dei più comuni funghi velenosi. La classificazione è operata da Mycology, personale specializzato ed esperto. Ovulo malefico È un fungo molto bello che si può trovare nei nostri boschi in estate ed in autunno. E' velenoso a causa di una sostanza di nome Muscarina, presente in esso. La sua tossicità tuttavia è limitata e quasi mai si è rivelata fatale per l'uomo. Amanita verdognola È un fungo terribilmente velenoso. Una piccolissima parte di fungo è sufficiente ad uccidere un uomo. Si trova nei boschi di tutta Italia in estate ed in autunno. Lento loma Questo genere di funghi velenosi si trova d'estate, molto più difficile trovarlo in autunno. Generalmente cresce vicino a alberi come Querce, faggi, castagni. È un fungo molto velenoso, in alcuni casi mortale. Colombina rossa Sono funghi velenosi che non vanno consumati, o perché contengono sostanze tossiche, o perché poco appetibili. Crescono in estate ed in autunno. In boschi di conifere e latifoglie. La loro ingestione provoca, dopo 4 ore, disturbi gastrointestinali. Porcino malefico È uno dei funghi più vistosi per colori e dimensioni. È facile da riconoscere. Si trova nei boschi di tutta Italia, di più in estate. Dà gravi problemi se ingerito, ma non porta alla morte. Amanita primaverile È presente in quasi tutta Italia. Dalla primavera all'autunno Fungo velenosissimo Se mangiato, porta alla morte. Attenzione a non farsi ingannare dal colore bianco candido. È importante saperlo riconoscere. Tutti i funghi tipo inociba sono pericolosi. Il tipo fastigiata è velenoso perché contiene la sostanza muscarina che è tossica e agisce sul sistema nervoso. Se mangiato, è obbligatorio chiamare il medico. Fungo dell'olivo Si trova ai piedi di alberi come Ulivo Quercia Faggio Si trova in estate e in autunno. Se ingerito, provoca disturbi gastroenterici. enterici